Due buone notizie quest'anno, sicuramente l'annata è buona e poi ci sono tanti giovani che chiedono di lavorare proprio nel settore dell'olivicoltura. Sì, i nostri uffici in provincia d'Imperia, soltanto per la nostra associazione, abbiamo avuto circa 200 richieste di nuovi giovani che vogliono aprire un'attività agricola. Oggi lei ha insistito sotto molti aspetti sia con il viceministro che con l'assessore, quali risposte positive ha avuto? Con il viceministro ho insistito soprattutto sull'aspetto della piccola microimpresa familiare che abbiamo noi in Liguria che dal gennaio 2017 dovrebbe anche le aziende che sono sotto i 7 mila euro di volume d'affari dovranno tenere la contabilità. Questo mi pare assolutamente un assurdo, fortunatamente il ministro mi è parso sensibile a questa tematica e si è preso l'impegno di provare a modificarla. Invece con l'assessore ha chiesto sul PSR è importante che riescano a entrarci tutti, questi parametri non funzionano. Esattamente, per quello che noi che i funzionari ci hanno visto dalle prime misure scritte si va in una direzione che non ci piace, non ci piace perché esclude una serie di piccole aziende che non arriveranno ad avere abbastanza territorio coltivato per poter accedere ai finanziamenti. E questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Ho voluto incalzare l'assessore su questo proprio perché prendesse davanti a tutta la platea un impegno a porci rimedio. In Liguria non possiamo lavorare sulla quantità, dobbiamo lavorare sulla qualità. Lei ha chiesto che questa qualità deve essere riconoscibile. Sì, la qualità deve essere riconoscibile, ma questo accordo che oggi è stato firmato a Roma tra le varie OP più importanti non mi convince troppo. Non possiamo ancora noi esprimere un giudizio finale perché non abbiamo ancora tutti i parametri qualitativi che sono stati inseriti. E' molto importante che nessun territorio, nessuna varietà di olio prodotta con tutte le attenzioni, con tutte le massime tecnologie, nessuna di queste varietà d'olio sia esclusa dall'alta qualità, assolutamente.